ben a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qua scusate se non posso fare il face reveal però c'è scusate non posso mostrare la faccia però sto usando il registratore del telefono era tipo quindicesima volta che provo a registrare il video perché non me lo fa registrare non lo capisco mi dice che il formato del file non è supportato vabbè ragazzi oggi siamo sulla copia derocata di fortnite ma prima di iniziare con il video lasciate like commentate e iscrivetevi detto questo cerchiamo una battaglia così tanto per ne facciamo una o due va bene io tanto questo gioco non dobbiamo giocarci tanto quindi proviamo a registrare questo video visto che già da 40 anni che prova registrarlo e in più i giocatori non ci sono nemmeno quindi ci sono 252 player online c'è ok sta per iniziare iniziamo ragazzi viola boi lo zieme core e coach e ci sono voi vai uccidiamo questo buono buonissimo si è nascosto ucciso ricarichiamo subito perché ancora non si sa mai vi ricordo ragazzi che gioco una partita perché poi ho paura che tipo si elimina il video a caso perché è successo così dai si abbiamo vinto ragazzi io vi saluto scusate per il video troppo corto ma io vi devo salutare alla batteria scarica quindi ragazzi ci vediamo ciao ciao